Io ci sta che il prossimo anno non ci ritorni se ci sono, perché sarà difficile rimanere sempre concentrati di fronte a questa bellezza, per cui diventa difficile anche dire ai calciatori che ora si lavora, perché è un posto di vacanza, è un posto dove si sta bene, come diceva lei. Per cui secondo me per essere concentrati e per essere poi bisogna stare anche un po' peggio, perché è lì che poi si riesce a raschiare sul fondo delle proprie qualità per venire fuori e per emergere. Quando si sta troppo bene poi ci sono troppe divagazioni, però voleva essere un gioco di parole. Si fanno i complimenti al sindaco per quello che è riuscito a organizzare qui. Il fatto che ci vengano in tanti è perché trovano poi la risposta a tutte le esigenze, a tutte le richieste. Io è la seconda volta che ci vengo, fu bellissimo, questa volta all'inizio è ancora meglio. Per cui io penso che sia un ritiro dove si potrà lavorare al meglio per ottimizzare, per farsi trovare pronti poi a livello degli avversari quando ci andremo a confrontare.